Prendere con il secondo intervento, il professor Bartocci si è autoimposto il tour de force di parlarci per un'ora sul vuoto. Allora, buongiorno. Si sente? Se non si sente, se non si sentisse, fatemi dei cenni, tiratemi delle cose. Sì, io parlerò giustamente del nulla, del vuoto, dello zero. C'è una tradizione anche poetica a questo riguardo, in questi sono versi di un trovatore molto famoso, l'ho scritto, diciamo così, in occitanico lì, ma il famoso Guglielmo d'Aquitania, questo dell'undicesimo secolo, cioè farò un verse, questa composizione, sul puro niente, eccetera, eccetera. Non sarà né sull'amore, né sulla gioventù, né su null'altro. E poi dice che lo ha inventato dormendo su un cavallo. Io, diciamo, non dormendo su un cavallo, ma dormendo sul treno, questo sicuramente. Quindi c'è un parallelismo anche in questo. Allora, più seriamente, vediamo il sommario, quindi inizierò, sommario per qualche motivo, è quello a sinistra, non so, perché si vede che non ho compilato una volta di più ho sbagliato. Parleremo prima, molto rapidamente, dello zero, perché se no ci parte tutto il tempo, e poi ci concentreremo sulla classe nulla, prima, e poi sull'insieme vuoto. Va bene, il livello che manterrò sarà un livello abbastanza elementare, quindi mi scuso con voi, diciamo, non dirò quasi niente di difficile. Bisogna però fare un prologo, e questo prologo ci porta inevitabilmente in Grecia. Esattamente come il professor André, che mi ha proceduto, ha iniziato da Aristotele, io invece inizierò da Platone. E' un famoso passo del sofista di Platone, questo, in cui si parla del non essere, di ciò che non è, quello che in greco è il tomeon, il non essente. Perché? Partecipa, per esempio, del verbo eimi, se qualcuno si ricorda dal classico. Quindi questo è lo straniero che parla e dice che nel porre come principio che il non essere non deve partecipare né dell'uno né dei molti, poco fa, eppure ora, con ciò stesso l'ho detto uno. Quindi dico, infatti, il non essere. Soltanto menzionare il non essere lo fa in qualche modo essere. E ciò è un paradosso. Bisogna ricordarsi, bene, che i greci, diciamo la matematica greca, cheppure è una matematica molto sofisticata, non conosce il concetto di zero. E quindi non potrebbe essere, diciamo, perché la definizione aristotelica del numero, aritzmos, è di una molteplicità di unità. Attenzione, il numero per i greci è solamente quello che noi oggi chiamiamo il numero, diciamo, intero positivo. Uno, due, tre, eccetera, eccetera. I numeri razionali non sono numeri, sono grandezze. Questo è chiarito, diciamo, quando dico i greci intendo Aristotele e, ovviamente, Euclide. C'è una differenza netta fra quello che è la grandezza discreta e quello che è la grandezza continua. Ma la terminologia continua non è il nostro continuo, è il continuo di Aristotele. Adesso facciamo un salto, diciamo, di mille anni, cioè non di mille anni, di duemila, i passi anni, e troviamo questo passo famoso di Platone commentato da un logico e filosofo contemporaneo, cioè Quine, in un articolo, anche questo molto citato, che è On what there is, su che cosa c'è, e dice che quello che abbiamo appena letto è il vecchio rompicapo, non ho tradotto le cose in inglese e in francese, le traduco così, è il vecchio rompicapo platonico del non essere. Vedete che è interessante anche questo, seguire come vengono tradotti, il tomeon diventa non being per Quine, non il non essere, ma il non essente. Il non essente deve essere in qualche senso, deve in qualche senso essere, altrimenti, diciamo, eccetera, eccetera. Questa intricata dottrina potrebbe essere battezzata, soprannominata, la barba di Platone, così la chiamano, diciamo, i filosofi in generale. Da un punto di vista storico, si è dimostrata, piuttosto, traduco liberamente, dura da radere, e frequentemente ha smussato il filo del rasoio di Ockham. Vediamo, diciamo, perché, sostanzialmente. Quindi ritroveremo poi questa stessa citazione adesso in Russell. Allora, lo zero. La storia dello zero è una storia in cui c'è... Aspetta che controllo sempre l'ora, 36. Quindi faremo proprio una carrellata molto veloce, perché altrimenti va via troppo tempo. A me piace parlare della metamorfosi dello zero. Attenzione, è, dal mio punto di vista, almeno lo tratterò in quanto concetto, non in quanto numero. Su questo credo che possiamo essere tutti d'accordo. Se qualcuno non fosse d'accordo, alzi la mano. C'è una certa differenza, diciamo, tra uno, per esempio, dove noi abbiamo una mela, una banana, una sedia, eccetera, eccetera, due. Cioè, tutti i numeri naturali piccoli, perché ovviamente se facciamo numeri grandissimi, anche questi non sono, diciamo, concettualizzabili facilmente, e zero, che invece non è concettualizzabile. Cioè, se a bruciapeilo chiedete, diciamo, a chi non faccia il matematico, o forse il logico matematico, diciamo, di pensare a zero, se vi chiedo di pensare a uno, quasi sempre uno pensa ad un oggetto in generale. Se vi chiede di pensare a zero, generalmente uno, se non è un matematico, pensa forse allo zero, alla cifra, eccetera, ma non si può ovviamente non pensare a niente, e questo è appunto la barba di Platone. Perché se penso, penso sempre a qualcosa. E la storia, diciamo, è complicata, non è una storia lineare, è una storia quindi anche istruttiva, perché ci dice come i concetti saltino da una cultura all'altra, da una lingua all'altra, e anche da contesti diversi. La storia sostanzialmente inizia, diciamo, lasciando, diciamo, dietro, diciamo, la pre-istoria, la pre-istoria, diciamo, della filosofia induista e vedica, che conosce già questa parola, diciamo, che è sunia, che troveremo, cioè il vuoto, la vuotezza, la vacuità, inizia, diciamo, in ambito non matematico e nemmeno astronomico, bensì grammaticale, secondo me, diciamo, perché la, diciamo, una delle discipline più formalizzate, sanscrite, quindi della cultura sanscrita classica, sanscrita greca, stavo dicendo, sanscrita classica, è la grammatica, l'analisi grammaticale. Quindi c'è un concetto di grado zero, sostanzialmente, già sviluppato nel più grande dei grammatici sanscritti, cioè panini, più o meno contemporaneo di Platone, se vogliamo. E, diciamo, e poi c'è questo pingala, diciamo, che usa, diciamo, una rappresentazione mediante uno zero, che però non è uno zero numerico, è uno zero simbolico, per risolvere un problema riguardo al numero di schemi metrici possibili con un certo fissato numero di sillabe. quindi è un problema sostanzialmente combinatorico che viene, a quale viene, diciamo, associato uno zero, una soluzione in cui compaiono degli zeri che sono chiamati, in questo caso, sunia. Poi, senza seguire tutta la storia, qui c'è una specie intorno, diciamo, quindi, tra il secondo secolo avanti Cristo, diciamo, di pingala, che è grammatico, e il secondo secolo, vedete, saltiamo, diciamo, in questi quattro secoli, c'è una situazione molto complicata e sostanzialmente inestricabile dal punto di vista della ricostruzione storica. Cioè, ci sono delle reciproche interazioni di influenze fra alcune delle più grandi, diciamo, delle maggiori culture che gravitano intorno al Medio Oriente, cioè l'India, la civiltà mesopotamica, che ovviamente è una civiltà antichissima, perché si va fino al secondo millennio avanti Cristo, e la civiltà greca. Le idee, sostanzialmente, vengono scambiate con molta maggiore intensità di quanto noi oggi spesso pensiamo, va bene? Pensiamo di essere i primi a vivere i mondi più o meno globalizzati. In realtà, il mondo ellenistico, perché qui stiamo parlando di ciò che avviene dopo la conquista di Alessandro Magno che muore se non erro, adesso io comincio a sparare delle date se potrei sbagliarle perché non ho appunti, 323 avanti di Cristo, l'impero che lui si, come sapete bene, si va in frantumi, ci sono i viadi, che questo però contribuisce ad intensificare i rapporti fra mondo greco e mondo per esempio indiano, cioè la cultura indiana. Lo sappiamo che lo stesso Alessandro Magno incontra i famosi gimnosofisti a Taxila, diciamo, ci sono delle, adesso non voglio farvi una lezione su questo, ma insomma influenze chiare per esempio della filosofia anche indiana sullo scitticismo greco, eccetera, eccetera. e quindi gli astronomi facendo diciamo la breve se no non faccio lunga, gli astronomi ellenistici che hanno già assorbito per esempio la notazione sessagesimale per gli angoli ovviamente presa dalla Mesopotamia, beh, ad un certo punto nel secondo secolo troviamo un papiro, il cosiddetto papiro Lund dove c'è uno zero anche che probabilmente deriva dal segno di separazione babilonese che è una specie di tondino con una barretta lunga sopra. Il vero e proprio zero cioè uno zero che è anche uno zero aritmetico compare quindi non solo un segno di separazione compare in un trattato astronomico che è quel nome impronunciabile che vedete lì questo qua diciamo e questo è l'autore siamo nel terzo secolo dopo Cristo e il titolo è Yavana Yataka non so la cosa interessante è questa prima parte qui Yavana Yavana significa greco in sanscrito perché diciamo mesopotamici indiani influenzano i greci e poi traducono diciamo le opere greche di nuovo in sanscrito e questa volta diciamo unendo quello che era successo sostanzialmente o avendo digerito una tradizione del vuoto che è più antica bene a questo punto sono pronti e si arriva diciamo saltando diciamo l'altra tappa io credo è questo il famoso Brahmaputashidanta di Brahmagupta un matematico siamo nel 628 questa è la data diciamo di composizione dell'opera in cui c'è una vera e propria una vera e propria grammatica sì grammatica algebra dei numeri interi positivi negativi quindi Brahmagupta ci dice in parole non in formule ma ci dice positivo più positivo fa positivo eccetera eccetera negativo per negativo fa positivo e ci dà anche le regole con le quali si deve trattare lo zero per lui è anche concesso dividere un numero per zero quindi ha senso scrivere diciamo 3 fratto zero e a questo secondo lui bisogna dare un significato diciamo il significato di una grandezza molto grande ma indeterminata la seconda parte diciamo delle metamorfosi dello zero sostanzialmente riporta le idee degli indiani di nuovo nell'occidente nell'occidente medievale quindi prima di tutto dall'india le diciamo le cifre indiane e lo zero passano in a Baghdad precisamente quindi siamo intorno al inizio del IX secolo a.C. Baghdad è una città faccio così qualche piccola pillola per rispolverare delle cose che sono note insomma viene fondata apposta nel 762 dai califi abbassidi cioè uno spostamento del potere politico culturale verso l'Asia centrale e nel 771 se non erro questo 762 me lo ricordo diciamo è la fondazione di Baghdad ovviamente nel nostro calendario loro diciamo lo indicherebbero diversamente come ovviamente 771 quindi pochi anni dopo arriva un'ambasciata da una terra del Pakistan che si chiama il Sind storicamente in cui sembra che diciamo il bagaglio insieme con le merci generi diciamo di volutuari di vario tipo ci fossero anche dei trattati di astronomia che ricordatevi però è Yavana cioè erano greci indiane sostanzialmente quindi ritorna in terra di questa volta cioè ritorna per la prima volta insomma negli arabi quindi siamo nell'ottavo secolo nell'ottocento dopo Cristo nel nono secolo e il nome è quello di Alkwarizmi Alkwarizmi non lo so pronunciare non ho mai capito se c'è qualcuno che lo sa e me lo dice sono contento e ovviamente quando dico matematica araba c'è sempre una imprecisione va bene il professor Andrei prima ha parlato e scritto in inglese ma se gli dicessi che è un matematico inglese probabilmente non sarebbe d'accordo con me e lo stesso diciamo vale per Alkwarizmi cioè scrive in arabo ma è persiano è persiano gran parte della matematica cosiddetta araba è fatta da matematici persiani in particolare il nome di Alkwarizmi ricorda diciamo la sua provenienza è una regione sotto a sud del lago di Aral che è un nome che quasi nessuno conosce ma esiste in italiano si chiama la Corasmia quindi era un persiano della Corasmia e questo che ho scritto diciamo in arabo così cioè in tratterazione spero giusta è il kitab che è l'unica parola che riconosco che vuol dire manuale poi ci sono delle altre cose e al indi anche questo credo che si capisca cioè indiano è il trattato sul calcolo indiano non è il famoso trattato di algebra e al-mukabala diciamo l'altro kitab quindi sto seguendo lo zero e questo trattato di Alkwarizmi è perduto quindi le cifre indiane si cominciano a essere usate in tutto il Medio Oriente bacino del Mediterraneo vengono usate dai mercanti e arrivano in Spagna sostanzialmente intorno al 1900 gli ultimi anni del nono secolo e c'è una prima menzione in un manoscritto di un monastero e uno dei primi diciamo che prende contatto con le cifre indiane è Gerberto Doriac futuro papa Silvestro II in odore diciamo di magia un negromante papa negromante che scrive un trattato sull'abaco quindi ha un suo sistema in cui usa dei sassolini su cui ci sono delle cifre dieci cifre e uno di questi che è il cosiddetto sifos dal greco xephos che vuol dire pietruzza è lo zero cioè un tondino con un triangolo e però attenzione questo dà origine ad una tradizione all'interno per intenderci dei conventi dei monasteri ma è perdente semplifico molto rispetto invece all'uso delle cifre che si fa nell'ambiente commerciale cioè i mercanti avicenna ibnassina nella sua autobiografia ricorda che quindi siamo sempre intorno all'anno 1000 un pochino dopo che suo padre lo manda a studiare l'aritmetica da un fruttivendolo adesso questo diciamo che ho segnato è il liber alcorismi alcorismi diventa alcorismi per antonomasia il libro di alcorismo da cui deriva poi la parola algoritmo che noi usiamo ancora adesso questo è uno dei tanti adattamenti va bene quindi sono delle versioni liberamente tratte dal trattato questo il kitab sul calcolo indiano va bene non abbiamo l'originale abbiamo questo ce ne sono vari intorno al 1143 e vengono prodotti sempre in terra di Spagna per esempio a Toledo ma non solo lì anche in Francia ci sono dei centri diciamo di traduzione e in Sicilia di traduzione di testi arabi e arriviamo al 1202 quello che è uno degli acmi della matematica medievale occidentale cioè il liber abaci di Leonardo Fibonacci attenzione che abaco qui non ha niente a che vedere con questo la grafia si può mettere con 1 o 2b ma sono due concetti diversi questo è uno strumento una tavoletta di calcolo questa è una tecnica un metodo non è fisico siamo nel 202 nuova edizione 228 il devo dire le cose Sunia che stava nel lucido precedente cioè il vuoto viene tradotto letteralmente quello che si dice diciamo un calco quello che i linguisti chiamano un calcolo in sifr in arabo che è la parola usata da Al-Qualismi sifr invece i latini sostanzialmente cercano di traslitterare questa parola araba e diventa zefirum così in Fibonacci da zefirum diciamo ci sono due famiglie linguistiche che derivano una è cifra l'altro è è zero sostanzialmente ovviamente non sono diverse perché diciamo per esempio in tedesco zifra può significare anche zero almeno in tedesco di una volta e bene il concetto di zero però ci mette un po' sto parlando troppo devo andare più veloce il concetto di zero ci mette un bel po' per essere accettato perché per esempio in un libro diciamo Trattatus De Arte Numerandi detto anche l'Algorismus Vulgaris di Johannes de Sacrobosco questo lo cito non perché sia una grande opera matematica ma perché è l'opera che si studia per 200 anni nelle università occidentali compresa Padova si studiava Giovanni da Sacrobosco successivamente detto Hollywood prima viene il nome latino e poi viene inglesizzato in Hollywood la decima figura viene detta su questa parola diciamo c'è un po' di incertezza sembra teca alcune edizioni hanno teta ma teca probabilmente è un ferro rotondo che veniva usato per la ferratura dei cavalli oppure circulus o cifra o figura del niente in quanto non significa niente ma tenens locum cioè a seconda del posto che occupa dà significato alle altre figure va bene adesso passiamo diciamo lasciamolo zero che però che non non diventerà diciamo non ripeto è un come come avevo letto diciamo avevo scritto diciamo qui nel all'inizio del lucido come dice un autore francese è una cifra che dà ombra e provoca ingombro questo non è un errore in francese mio ma diciamo è la scrittura diciamo antica della parola ombra ombra e allora la storia della classe nulla inizia con Leibniz e in particolare con diciamo quell'opera straordinaria che sono le generales inquisiciones di analisis nozionomet veritatum quindi le ricerche generali sull'analisi delle nozioni quindi dei concetti potremmo dire e delle verità e in particolare diciamo in quest'opera straordinaria che è datata 1686 Leibniz sviluppa il suo calcolo logico che dovrebbe diciamo essere la base di quella mathesis universalis detta anche caratteristica universalis che dovrebbe permettere come scrive in un altro libro sostanzialmente di sedare tutte le dispute fra i filosofi perché due filosofi che sono in disaccordo si siedono e calcolano con il calcolo lo logico che Leibniz gli dà a disposizione bene qui c'è una logica sostanzialmente simbolica Leibniz usa delle lettere A, B, C per quelli che lui chiama termini che sono sostanzialmente proposizioni o anche concetti e ci sono anche delle lettere variabili che sono chiamate x grande y grande eccetera eccetera c'è un'operazione di negazione e poi c'è il nonente il nonense cioè quello di cui Platone non vuole sentire parlare Leibniz lo inserisce nel suo calcolo logico c'è questo oggetto il nonense è ciò che è meramente privativo questa è la sua definizione scusate ho sbagliato privativo vedete cioè privativo rispetto ad ogni cosa cioè vuol dire non y y non è variabile cioè spiega ancora non a non b eccetera ciò che non è nessuna di queste cose e questo è quello che diciamo vulgo dicunt volgarmente si dice che il diciamo il nulla non ha alcuna proprietà questa è la traduzione di Mugnai Leibniz è un pochino più sottile nella sua cosa vedete lui non fa nulla soggetto ma lo fa diciamo genitivo sono le proprietà cioè nessuna proprietà essere del nulla è una sottigliezza e questa secondo me ma Leibniz non avrebbe mai messo il nulla né come soggetto e ora le opere di Leibniz qui dentro diciamo si può discutere sostanzialmente trovate tutti in quest'opera qui tutti gli assiomi di quello che oggi si chiama un'argola booleana ci sono tutti ci sono le operazioni va bene c'è A-A c'è un'unione logica quindi A-B e c'è A-A uguale ad A cioè quindi lì di impotenza dell'operazione va bene e e si arriva a Bull a l'argola booleana Bull il problema è che Bull non conosce Leibniz non l'ha mai letto non c'è traccia di Bull le opere di Leibniz rimangono sostanzialmente sconosciute fino alla fine dell'Ottocento quando vengono si inizia a studiarle prima Peano legge prima di tutto non ci sono delle edizioni affidabili c'è la edizione Gerrard della metà dell'Ottocento poi c'è poi prima c'è Peano poi ad un certo punto ci sono persone che vanno a studiare i manoscritti in particolare un francese Couturin va all'Ipsia a studiare i manoscritti di Leibniz e va ai lati tra gli italiani qui ho scritto diciamo questo è in inglese ma l'ho scritto in questo no non l'ho tradotto dice che il nulla e l'universo sono i due limiti della of class extension dell'estensione delle classi e quindi noi qui diciamo normalmente diciamo che le algi booleane sono state inventate da Bull e questo diciamo è più o meno quello che lui fa cioè introdurre queste due queste due classi che chiama il nulla e l'universo va bene e assegna allo zero assegna il simbolo zero all'interpretazione di nulla e dice la legge a questo punto zero y uguale a zero è soddisfatta qui c'è un numero nell'originale per questo l'ho messo tra parentesi quadri perché viene richiamata l'equazione va bene quindi sai l'intersezione logica definita da l'operazione logica definita da Bull e questo è un prodotto è soddisfatta uno potrebbe dire beh non è emozionante si è emozionante per Bull perché nella proposizione 4 lui con le sue diciamo operazioni dimostra quella che la sioma qui c'è una S di più vedo ci sono varanno vari di questi refusi che quella sioma non c'è la S qui dei metafisici che è chiamato principio di non contraddizione si può dimostrare diventa una proposizione che deriva dalla sua legge fondamentale cioè la legge fondamentale di Bull che è la stessa anche di Leibniz è x quadro uguale a x la legge di impotenza a questo punto lui la scrive ovviamente così x uguale a 0 va bene questo è diventa il nulla l'uno è l'universo e quindi x diciamo intersecato il suo complementare è il vuoto detto diciamo molto rapidamente però è interessante che lui riesca a vedete anche il tono della frase questo diciamo diventa non più un principio ma una proposizione e Peano si muove diciamo su sostanzialmente delle linee che sono piuttosto simili a quelle di 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 Bull Peano ha letto anche Leibniz ma non credo che non avesse mai letto l'opera che ho citato prima le Generales Inquisiciones e è una persona diciamo molto colta Peano cioè well read come si dice in inglese legge molto quindi legge Bull conosce diciamo i logici tedeschi come Schröder mentre lo scopo primario di Bull è quello di dare non ho sottolineato prima il titolo dell'opera questo è il titolo abbreviato An Investigation of the Laws of Thought una appunto ricerca sulle leggi del pensiero con particolare diciamo il titolo continua menzionando le probabilità quindi questo è l'obiettivo principale che ha in mente Bull per lo sviluppo delle sue regole logiche Peano si muove su tutto un altro in un'altra direzione cioè a lui a Peano interessa soprattutto fare pulizia sono sostanzialmente delle regole di igiene nello sviluppo in particolare delle dimostrazioni di analisi vuole avere uno strumento che gli permetta di fare delle dimostrazioni rigorose che stiano in piedi e quindi comincia a sviluppare questo calcolo logico queste sono le motivazioni iniziali poi ovviamente Peano andrà avanti per la sua strada bisogna considerare l'insieme di tutti gli enti del sistema che si indicherà con questo segno pallino pieno e si leggerà tutto e poi c'è anche la mancanza di ogni ente che si indica con il segno questo all'inizio questo è il calcolo geometrico secondo quest'opera di Grasman la teoria dell'estensione vedete c'è ovviamente la scrittura questa esprime la proposizione non sonvi degli a e questa esprime la proposizione universale nessuna e b vedete che ancora Peano si usa il linguaggio che era il linguaggio di Leibniz e della logica aristotelica e in un'opera successiva cioè negli Aritmetes Principia prima Peano inizia diciamo a scrivere in latino ad un certo momento e poi passa a quello che si chiamerà il latino sineflexione va bene che personalmente io trovo un'aberrazione bruttissimo i segni questi segni più del tutto e della classe nulla diventano a questo punto questo una V verum il vero e la V rovesciata non è una lambda questo significa falsum allora in quest'opera che secondo me è un gran pasticcio gli aritmeti cioè l'inizio diciamo di cui dopo diciamo questa è la premessa dell'opera dove dopo ci saranno i famosi assiomi di Peano tanto per intenderci inizia con questa premessa che è diciamo un'opera a sé stante con un'autonomia e in cui le cose prima un po' sono proposizioni poi diventano classi va bene molto dell'epoca però diciamo è un po' difficile e da capire anche un po' diciamo almeno per me un po' fastidioso lo stesso segno quindi falsum lui dice però poi diventa anche la classe che non contiene nessun individuo e tutte e due le cose questo si può fare diciamo lo ritroveremo alla fine però in e scrive una formula che è abbastanza assurda che ho ricopiato fedelmente va bene e in cui c'è un problema non voglio commentarla perché mi porto vedete che c'è un problemino qui nella formula perché questo significa semplicemente hai una classe va bene questo è un segno di interpunzione non significa therefore questa è l'implicazione questa c rovesciata e questa è la definizione questo è un solo e solo se vedete che c'è lo stesso segno in ciò che si vuole definire cioè nel definire definendomene e in ciò che lo definisce è un po' circolare e infatti questo tipo di definizioni scatenavano le ire di Harry Poincaré intorno all'inizio del novecento questa è una citazione da science e metodi in realtà è un articolo del 1905 in cui lui non se la prende direttamente con Peano ma diciamo precisamente con quello Qtua che ho già menzionato prima dice che cos'è lo zero è il numero degli elementi della classe nulla e che cos'è la classe nulla è quello che non contiene nessun elemento definire zero attraverso null e null attraverso nessuno insomma o alcuno significa veramente abusare della ricchezza della lingua francese così Qtua ha introdotto un perfezionamento nella sua definizione scrivendo questa formula che è una variazione rispetto a quella di Peano e il che vuol dire in francese lo lasciamo che Poincaré ce lo spieghi zero è il numero degli oggetti che soddisfono una condizione che non è mai soddisfatta ma dato che jamais mai significa nessun caso non vedo che il progresso sia veramente considerevole vedete che c'è un tono molto ironico anche scusate vedete mi sono allontanato un tono molto ironico in Poincaré in realtà quello che lui scrive cioè questo il numero degli oggetti che soddisfano che soddisfano scusate ad una condizione mai soddisfatta non è un'idea di Qtua e nemmeno di Peano ma è l'idea di Frege e vediamo se 12.04 devo andare un po' rapido allora Frege Gottlo Frege è una di quelle diciamo di quelle figure grandi figure possiamo dire anche grandi diciamo che viene percepita però in maniera molto diversa diciamo dai logici dai logici matemati ammesso che esistano ancora i logici senza nessun altro attributo i logici matematici e i filosofi e tra i filosofi se siete un filosofo continentale pensate di Frege una cosa se siete un filosofo analitico pensate diversamente e io per rispetto della tradizione della filosofia analitica e qui sono diciamo circa ironico come Poincaré ho messo una traduzione in inglese fatta da J.L. Austin che è diciamo l'ortodossia e quello degli atti linguistici per intenderci ora senza guardare senza ancora leggere lì molto brevemente mi scuso se dico delle cose elementari l'idea di Frege nelle Grundlagende Aritmetik sono del 1884 è quello di considerare concetti quelli che lui chiama concetti che la parola tedesca è la parola standard cioè Begriff non c'è niente di strano ma lui intende questa parola in un senso molto specifico per intenderci potremmo immaginarla come una preposizione con una variabile per esempio un concetto è essere un giorno della settimana sì però lui lo pensa nella forma x è un giorno della settimana questa è una buona approssimazione di quello che Frege ha in mente il concetto x è un giorno della settimana y è un cavallo ok questo è poi ogni concetto ha una sua estensione un fang che è rappresentata dalla classe di tutti gli oggetti che cadono sotto quel concetto per esempio y è un cavallo se avete un cavallo quel cavallo lì cade sotto il concetto essere un cavallo o y è un cavallo va bene e come si fa a fondare il numero dice secondo Leibniz il concetto di numero di Leibniz è quello di dire bene fondiamolo sul concetto di equinumerosità cioè avere la stessa ansal come vedremo due concetti si dicono equinumerosi attenzione se le loro estensioni possono essere emesse in corrispondenza bionivoca per esempio il concetto x è una stella dell'orsa maggiore e x è un giorno della settimana sono equinumerosi perché hanno un'estensione in questo caso giorno della settimana sono sette le stelle dell'orsa maggiore credo anche sette e si può stabilire una corrispondenza bionivoca spesso si sottolinea che questa idea della corrispondenza bionivoca come una grande diciamo intuizione di freghe non è questo c'è già in Hume lo trovate cioè è un'idea vecchia è questa macchinosità diciamo del concetto che invece è un'invenzione di di freghe e come si inizia il tutto bene si inizia dicendo dal concetto da zero come si fa a definirlo zero dice dato leggo traduco dall'inglese o dal tedesco insomma è molto semplice il tedesco in questo caso lui si inventa questo questo concetto che è non identico con se stesso questo non mi fate pronunciare il tedesco lo pronunco malissimo sich selbst ungleich quindi non uguale a se stesso attenzione che qui anche c'è Leibniz sotto perché c'è il concetto c'è il principio degli indiscernibili di Leibniz quindi lui usa l'uguaglianza in realtà come un'identità e infatti Ossi non a caso traduce con identical not equal questo però ci porterebbe molto lontano a analizzare tutte queste minuzie allora definisce lo zero qui non c'è nel tedesco ma Ossi è la parola diciamo per zero definisce così zero è il numero Ossi lo scrive con la n maiuscola perché non è zale è anzal è la stessa parola che Cantor userà poi diciamo per introdurre il concetto in numero ordinale per intenderci è sempre un problema da tradurre ed anche da spiegare è il è il numero che cade che appartiene scusate che appartiene al concetto non identico a se stesso cioè è il numero che diciamo che appartiene all'estensione del concetto non essere uguale a se stesso qual è l'estensione di questa cosa è vuoto noi diremo non c'è niente infatti tra l'altro Leibniz dimostra sostanzialmente che si è dato un altro concetto assurdo cioè mai verificato come diceva Poincaré una proprietà che non è mai soddisfatta questo è in corrispondenza bionivoca con l'estensione del concetto è equinumeroso al concetto non identico con se stesso poi va avanti perché l'uno a questo punto diventa il numero che appartiene al concetto essere uguale a u a zero quindi ha definito lo zero dice uno è quello che appartiene al concetto x è uguale a zero quante ce n'è? Uno e poi due x è uguale a zero oppure uno eccetera eccetera non è male la trovata di 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 Frege si potrebbe obiettare qui non vi leggo il tedesco quello che lui stesso osserva in un'opera successiva che sono le Grundgesetze der Rettmetik non si rende conto che in un certo senso sta parlando di se stesso secondo me e dice come il geografo non crea alcun mare quando traccia le linee di confine dice la parte di superficie acqua delimitata da queste linee la voglio chiamare margiallo così mediante le sue definizioni neanche il matematico può propriamente creare nulla con una mera definizione non è possibile far sì che una cosa abbia una proprietà che di fatto non ha tranne quella di chiamarsi come la si è battezzata quindi dice c'è forse qualche problemino ontologico si potrebbe supporre che la definizione che abbiamo letto prima mette fa scivolare sotto il tappeto allora di Dedekind visto che siamo ancora 20 minuti 19 per l'esattezza parlo molto brevemente diciamo perché in realtà non c'è niente da dire e se non in negativo cioè la famosa ci sono due famose opere diciamo di conoscete tutti queste cioè le opere di Dedekind la prima quella dedicata alla costruzione dei numeri irrazionali quelle che si usano ancora adesso i tagli di Dedekind Stated Guide Unirrazionale Zalen la continuità ai numeri irrazionali prima edizione 1872 ma in realtà già realizzata intorno alla metà dell'800 e questa successiva Basin und Basollen di Zalen cioè questo tradotto in italiano il titolo diciamo della traduzione ufficiale è l'essenza del significato dei numeri ma significa che cosa sono e che cosa devono essere o come devono essere intesi i numeri del 1888 ci sono due edizioni e anche qui passiamo per rapidità dice si limita a considerare vedete la serie dei numeri naturali poi vedete come continua la frase se uno vuole fare questa è la prefazione in che modo la graduale estensione del concetto di numero del concetto di di numero che per lui è Zal vedete Zal Begriff siamo qua vedete qui la creazione perché questo è il marchio di fabbrica della concezione della matematica di Dedekin i matematici creano creano noi siamo di stirpe divina scrive in una in un'opera prende molto sul serio questa cosa cioè non è un modo di dire una concezione secondo me vedete la creazione dello zero dei numeri negativi eccetera eccetera questo lo dicevo l'ho già fatto vedete questo cosa significa se uno legge attentamente cioè non tanto attentamente non ci vuole molto che lo zero non è un numero naturale deve essere creato e questo deve essere creato per dare pieno significato nel suo sviluppo all'operazione di addizione quindi bisogna prima diciamo ci sono i numeri i numeri naturali poi si fa diciamo quello che noi diremo diciamo ci sono troppi algebristi mi sto emozionando l'anello dei numeri interi z dede quindi le sa queste cose per ricordo a tutti diciamo e quindi così come non ci sono diciamo lo zero non è un numero naturale non stupisce che nell'opera diciamo nelle pagine successive di quest'opera che nonostante si intitoli cosa sono i numeri e come bisogna intenderli costruisce sostanzialmente una teoria di insiemistica lo metto tra virgolette cioè quelli che Dedeckich chiama sistemi di cose di inghe cose che è una versione diciamo insiemistica alternativa sostanzialmente a quella di Cantor dicevo come in questa teoria di Teddich l'insieme vuoto non ci sia non c'è si preoccupa Dedekind dell'infinito tutti conoscete la definizione di Dedekind diciamo dell'infinito è quello che può essere diciamo posto in corrispondenza buonivoca con una sua parte propria in realtà la definizione è di Bolzano che Dedekind più o meno Bertha Bolzano che Dedekind un po' conosce dimostra che esistono insiemi infiniti nell'opera cioè l'insieme dei miei pensieri questa è la definizione di cioè la dimostrazione di Dedekind non è la mia diciamo volgarizzazione però l'interessante è che per Dedekind non c'è l'insieme vuoto vediamo cosa dice Cantor Cantor va bene adesso non posso fare la storia diciamo della genesi della teoria degli insiemi ma nel 1880 c'è il secondo articolo di questa serie sulle, traduco il titolo tedesco sulle, vedete questa parolona qui Manifatilakiten vuol dire le moltiplicità di punti lineari e infinite quello di cui ci ha parlato anche il professor Anderoy prima diciamo quando ha detto era interessato a quello che succedeva in R queste moltiplicità di punti sulla retta reale e questo è il famoso diciamo è un articolo molto breve vedete solo tre pagine nell'originale in cui ci sono le operazioni con gli insiemi quindi si fanno le intersezioni comincia diciamo le chiama alternativamente la terminologia di Cantor non è ancora fissata quindi usa alternativamente la parola molteplicità e venga gli insiemi poi nella teoria degli insiemi questo ovviamente si affermerà e la parola molteplicità viene verrà lasciata nell'ombra in questa fase diciamo c'è una doppia terminologia e facendo le operazioni con gli insiemi diciamo l'operazione più famosa qui è poi quella di derivato sostanzialmente in cui sostanzialmente più che un articolo il tre più che un articolo insiemisti di teoria degli insiemi va visto come un articolo topologico dicevo Cantor scrive è anche utile avere un segno che esprima l'assenza di punti e a tale scopo scegliamo la lettera O non è uno zero P equivalente ad O significa così che l'insieme P non contiene nessun singolo punto attenzione cosa aggiunge però dice sicché a rigore non esiste in quanto tale cioè Cantor lo ammette ma dice vabbè è una finzione se voi cercate negli articoli successivi di Cantor qui diciamo io ne ho menzionati solo due in realtà più o meno diciamo me li sono guardati tutti non c'è più questo zero l'insieme vuoto scompare in particolare in questo diciamo questi contributi famosi Baitreghe questi contributi alla fondamenta della teoria degli insiemi trasfiniti cioè l'opera diciamo in cui si cristallizza la teoria insimistica di Cantor non c'è proprio l'insieme vuoto non c'è proprio non è mai menzionato non c'è nemmeno una frasetta come quello che abbiamo letto prima non esiste e l'altro articolo che qui vi puntualizzo è questo diciamo su una questione elementare diciamo della teoria vedete che qui di nuovo molteplicità è un articolo del 92 è il primo articolo che Cantor pubblica dopo un decennio di crisi produttiva in cui anche diciamo intellettuale molto profonda sofferta diciamo si dedica a scrivere cose che riguardano il diciamo la presunta paternità delle opere di Shakespeare da parte di Francis Bacon si potrebbe qui è il famoso è il famoso articolo dove dimostra che il lo dico come normalmente si dice che la cardinalità di un insieme è inferiore alla cardinalità dell'insieme delle parti e uno potrebbe pensare che in questo articolo diciamo ci sia l'insieme vuoto perché beh prima di tutto perché se facciamo con gli insiemi finiti i conti non torno cioè non torno non viene due alla n la terminologia la notazione poi di di Leibniz eh sì di Leibniz non so cosa c'entra di Cantor sarà quella diciamo se la cardinalità di un insieme è diciamo un certo cardinale diciamo ha allora la cardinalità io continuo a dire l'insieme delle parti è due allora uno dice ma ci sarà l'insieme vuoto no non c'è l'insieme vuoto perché Cantor non parla mai dell'insieme delle parti lui pensa alle funzioni alle funzioni dell'insieme zero due quindi questa concettualizzazione tra l'altro diciamo un semplice esercizio mentale come un esercizio spirituale se volete non c'è niente mentre pensate all'insieme delle parti l'insieme vuoto è speciale se realizzate l'insieme delle parti come le funzioni in potete pensare zero uno potete pensare a b potete pensare sasso grande sasso piccolo non importa e l'insieme vuoto qual è? non è diciamo non si distingue dagli altri messo così quindi non c'è qui è il famoso articolo dell'argomento diagonale di Cantor c'è una dimostrazione che è un gioiello qua dentro allora si potrebbe vediamo se manca un quarto d'ora dieci minuti ci siamo ci si avvicina adesso al nuovo secolo facciamo prima una puntata in Russell allora Russell 1903 sono the principles of mathematics nel 1902 Russell ha mandato in frantumi il il sistema di di freghe attenzione il paradosso di Russell non ha niente di speciale lo conosceva già Zermelo il paradosso di Russell è un'abordata che Russell spara contro freghe perché bisogna raccontarlo all'incirca così lo leggo perché sennò faccio sempre confusione cioè il concetto è x è una classe che non appartiene a se stessa questo è il concetto vedete che questo concetto non è molto diverso da x diciamo non è identico a se stesso questo x è una classe che non appartiene a se stessa è molto simile a questo punto se fate l'estensione di questo concetto trovate la classe di tutte le classi che non appartengono a se stesso e questo non sta in piedi perché crea diciamo il paradosso ma è un paradosso diretto contro freghe freghe accusa il colpo perché nella secondo volume dei grunghesezze si apre con la famosa frase diciamo diciamo come vediamo a uno scrittore di scienza ben poco può giungere più sgradito del fatto che dopo aver completato un lavoro venga scosso uno dei fondamenti della sua costruzione sono stato messo in questa situazione da una lettera del signor Russell Russell però non ha le idee molto chiare nemmeno lui qui non voglio diciamo perder troppo sempre su questo però vedete lui dice grandi difficoltà qui siamo nel 1903 e ancora Russell non parla di teorie degli insiemi questo è prima di tutto dice sono associate con l'idea della classe nulla e generalmente con l'idea di nulla vedete qui sembra di nuovo Platone dice è evidente plain è chiaro diciamo che esiste un concetto come quello di nothing e in qualche senso nothing è qualcosa infatti la proposizione nothing is not nothing niente e non niente è indubbiamente vedete che aggiunge questi avverbi che sono secondo me la spia diciamo quando uno sa di non essere convincente ci mette un po' di evidentemente indubbiamente sicuramente per fare cadere il lettore nella trappola perché c'è questo avverbo cosa serve è capace o non è capace e non ce la ce la spiega dopo veramente di un'interpretazione che la fa vera e poi vedete che rimanda al Platone al sofista di Platone che citavo prima e poi interpreta la classe nulla in logica simbolica cioè è peano e dice che però ci sono delle contraddizioni e c'è tutta una parte diciamo abbastanza diciamo come dicevo contorta diciamo perché da un certo punto di vista lui dice che non c'è actual introduce questa cosa delle classi actual class una classe effettiva effettivamente realizzata non si sa bene secondo me cosa lui abbia in mente anche perché quando poi si applica questo aggettivo null class viene che volevo dire null class actual cioè se uno dice vabbè vedete questa frase che è anche molto strana dice la classe nulla è in qualche senso analoga ad un numero irrazionale in aritmetica non può essere interpretata sugli stessi principi come le altre classi e se vogliamo dare un'analoga interpretazione altrove dobbiamo sostituire le classi con altri concetti più complicati poi finisce dicendo che abbiamo concordato cioè estende anche a me il lettore che non concordo assolutamente con lui che la classe nulla che non ha termini termini è il termine che usava Leibniz per alto è terms è una finzione it's a fiction notate che Russell non voglio parlare male di lui buonanima ma non era nuovo a queste cose se leggete diciamo le sue idee sulla geometria per esempio nei punti ideali della geometria proiettiva c'è la stessa cosa lo stesso aggettivo anche lui dice ah ma non si capisce niente sono cose fittizie queste se lo facesse un filosofo lo caccierebbero a fischi così dice allora uno dice va bene adesso Zermelo cioè finalmente abbiamo messo tra parentesi Russell arriviamo a Zermelo l'articolo diciamo della sono dieci sei minuti e ho finito l'articolo diciamo dove c'è l'assiomatica è un famoso articolo del 1808 Zermelo ha messo a posto il cosiddetto principio del buon ordinamento prima nel 4 e poi nell'8 anche fa due dimostrazioni distinte e scrive questo articolo che è diciamo la zeta di Zermelo poi Frenkel fa diciamo delle correzioni sostanzialmente ma vedete che anche lui non resiste è dato un insieme improprio l'insieme vuoto che non contiene nessun elemento ci aggiunge questa cosa l'insieme vuoto è un sotto insieme poi dà le proprietà solite diciamo uno potrebbe pensare diciamo che sto sovra interpretando una parolina ma in realtà no almeno spero perché c'è una lettera addirittura del 21 di Zermelo a Frenkel in cui dice tra l'altro la giustificazione la motivazione la giustificazione la legittimazione di questo insieme vuoto sta diventando per me sempre più dubbia non sarebbe possibile farne a meno attraverso un'opportuna restrizione della stioma di separazione di fatto esso serve soltanto per qualche semplificazione formale cioè l'insieme vuoto non serve a niente per quel grandissimo matematico che era Ernest Zermelo beh c'è qualcuno che non la pensa così circa in quegli stessi anni qui siamo nel 21 e questo signore si chiama Janos Neumann successivamente conosciuto come John von Neumann poi è passato per Janos von Neumann quel phon diciamo è un po' inventato è una traduzione di un titolo più o meno nobiliare Maggiaro e l'articolo che diciamo è fantastico era giovanissimo poi noi avevamo 20 anni è questo sul modo di introdurre i numeri trasfiniti ed è pubblicato su una rivista oscurissima questa questi acta literario nel scienziario in Reggio Università Tivarica Francesca Giusefina il 23 cosa fa qui e lo leggiamo direttamente in italiano così lo facciamo prima e ogni numero ordinale le dà una nuova definizione di numero ordinale che è la definizione che veramente se voi avete letto come lui aveva letto Cantor diciamo in cui il numero ordinale diventa una classe di equivalenza diciamo di particolari trasformazioni diciamo che sono quelle bigettive che preservano l'ordine e beh questa è una semplificazione genialissima cioè ogni numero ordinale è l'insieme dei numeri ordinali che lo precedono fantastico sostanzialmente adesso qui potete diciamo viene modernizzata poi questa diciamo intuizione di von Neumann ma sostanzialmente non c'è molto da dire e l'insieme vuoto diventa senza nessun commento qui il è il mattone su cui si costruisce tutto qui zero è l'insieme vuoto e vedete la famosa diciamo successione di von Neumann cioè lo zero questi sono numeri ordinali e non cardinali lo zero è l'insieme vuoto uno è l'insieme che contiene l'insieme vuoto l'insieme il cui unico elemento è l'insieme vuoto non siamo molto distanti apparentemente da freghe l'uno è l'estensione del concetto essere uguale a zero ma qui siamo in realtà lontani anni luce perché concettualmente questa è tutta un'altra storia c'è il 2 il 3 l'omega che è il primo ordinale trasfinito e omega più 1 io ho copiato quello che sta nell'articolo la sua non è una mia non contate le parentesi se sono sbagliate ha sbagliato von Neumann e l'ho riscritto per voi diciamo in una formazione un pochino più cioè moderna perché questa definizione diciamo degli ordinali questa definizione di von Neumann degli ordinali si usa una volta che avete definito gli ordinali così per qui non è più von Neumann in realtà è per costruire quello che si chiama l'universo di von Neumann che che dà una possibile interpretazione della siomatica di Zermelo-Frenkel quindi diciamo bisogna sempre ovviamente dico sempre cose ovvie da una parte c'è la siomatica che è pura sintassi poi ci vuole la semantica quindi dovete avere dei modelli non basta normalmente si intende poi Zermelo-Frenkel con scelta interpretato su un qualche modello e in generale spesso si prende l'universo di von Neumann oppure universi più piccoli universi degli insiemi costruibili eccetera eccetera vedete che questo però è io ho intitolato il lucido ex nilo omnia perché prima abbiamo usato l'insieme vuoto per costruire gli ordinali e poi facciamo diciamo questa costruzione partendo appunto da V0 poi è un'induzione un processo ricorsivo trasfinito non è scritto in maniera pulita insomma perché ovviamente qui è omega vale non solo per il primo ma per qualunque ordinale e se avete un ordinale limite dovete fare l'unione di questi e l'universo di von Neumann è la classe di insiemi che si scrivono in questo modo dove Ord è la cosa degli ordinali quindi l'insieme vuoto anche se non è ontologicamente in un certo senso diventa un mattone fondamentale o può diventare un mattone fondamentale nella costruzione diciamo della teoria degli insiemi e qui anche perché il mio tempo è scaduto vedete si possono moltiplicare a questo punto diciamo gli la roba vuota di empty stuff in teoria delle categorie per esempio diciamo rivice diciamo riformula le proprietà dell'insieme vuoto dicendo che questo è un oggetto iniziale nella categoria cioè vuol dire che c'è una freccia da quello in cui un altro oggetto è stretto diciamo che ce n'è solo una avete solo un automorfismo e c'è una nozione ovviamente di funzione vuota che è quella questa che dipende dalle proprietà che ovviamente dà anche la nozione di famiglia vuota questa funzione vuota spesso viene chiamata la famiglia vuota indiciata da x e potete fare no ho sbagliato potete fare anche ovviamente un empty space uno spazio tipologico vuoto ma nello stesso senso qui diciamo un po' più diciamo per studenti diciamo question per esempio diciamo frequently asked question cioè è connesso questo spazio per esempio provate ad applicare la definizione e c'è una nozione di lo stesso di questo che si chiama spesso di empty bando e lo stesso per l'insieme simpliciale per i grafi eccetera eccetera ovviamente potete considerare la categoria vuota c'è un po' un problema qui vedete che c'è una moltiplicazione dei vuoti no non ce n'è più uno perché vivono tutti in categorie diversi cioè insomma in universi diciamo del discorso diversi e che ovviamente la categoria vuota è anche il gruppoide vuoto eccetera eccetera e che è diciamo mi sono un po' divertito qui è la categoria libera sul grafo vuoto se volete ovviamente un po' più interessanti sono le cose qui sono molto breve diciamo che si fanno in un molto quick type theory perché qua diciamo a parte l'empty contest il contesto vuoto è l'empty type il tipo vuoto che è particolarmente interessante diciamo e in un certo modo fornisce un paesaggio concettuale più elegante se non altro perché diciamo c'è una proprietà che qui non ho specificato diciamo che è quello che definisce diciamo il tipo vuoto cioè sostanzialmente un ricorsore universale tipo vuoto in qualunque altro tipo siamo in un universo è fissato e che gli autori stessi del libro forse molti alcuni di voi avranno visto molto più type theory chiamano il principio del ex falso quadlibet quindi dal falso si può derivare tutto quindi vedete che il tipo vuoto diventa anche il falso esattamente come era diciamo sia in Leibniz sia in Peano e a questo punto si definisce la negazione di un tipo mediante il tipo vuoto la negazione di un tipo e c'è un concetto per un tipo di essere abitato e più o meno avere elementi ma qui semplifico molto c'è un teoreminio che si fa vedere che un tipo è diciamo è abitato se e solo se la negazione la sua negazione è non abitata e visto che si dimostra che il tipo la negazione del del tipo empty è la negazione di questo titolo è abitata allora lui non è abitato e a partire poi da questo diciamo si mette qui non ho veramente scritto in piedi una costruzione di una gelartia diciamo che è molto apparentemente diciamo simile a questa diciamo di von Neumann e il cui mattone diciamo sostanzialmente principale è ovviamente il contesto della teoria di questa teoria dei tipi con appunto con il tipo vuoto come dice Carol beh I often see a cat without a grin un gatto senza un soghigno pensò Alice but a grin without a cat è quello diciamo più o meno che ho cercato di raccontare un soghigno senza gatto grazie grazie